Tanta Puglia significa tanto olio ed è quello che è successo a TuttoFood, la grande fiera dell'alimentazione di scena a Milano che ha visto protagoniste molte aziende pugliesi che in alcuni casi si sono anche affermate ottenendo premi e riconoscimenti. Abbiamo avuto contatti e siamo stati anche premiati con Leone d'Oro, un premio che danno alla sezione Maestre Oliari. Lo stesso olio è stato poi premiato all'Orciolo d'Oro, un altro concorso il più antico d'Italia. e anche lo stesso olio a Sirena d'Oro, un premio dedicato al sole agli OliDoc d'Italia. Intanto però gli ultimi dati dell'osservatorio economico di Unaprol sull'andamento dell'annata 2014-15 registrano importazioni in aumento e Segno Rosso lo fa registrare anche l'export. TuttoFood può in questo senso costituire un appunto di ripartenza. La fiera si conclude positivamente, anche i numeri stessi che l'ente fiera ha dato in questi giorni con un più 40% di affluenza che è molto molto grande. Noi possiamo dire che lo confermiamo per chi è passato tra i nostri stand perché si è fermato con le aziende. Le aziende, devo dire, vanno via soddisfatte, hanno avuto i loro incontri con i buyer. Questa è una fiera ovviamente per operatori. Ma com'è andata la fiera per le aziende pugliesi? Tendenzialmente è positivo perché c'è stato un grande interesse da parte di operatori esteri. A noi interessa molto esportare i nostri prodotti e soprattutto il nostro olio. Anche se i buyers, sui buyers dobbiamo stendere un velo piuttosto pietoso. Perché? Lei sa bene che spesso i buyers fanno solamente presenza.